È obbligatorio indossare la mascherina prima di entrare in questo ufficio postale, ma non è consentito l'ingresso a più di due persone nello stesso momento. Inoltre, siccome è piccolo e c'è poco spazio, è proibito entrare se ci sono già dieci persone dentro. All'ingresso è inoltre necessario mostrare il codice verde al personale, così loro lo possono scansionare. Ricordate di prendere il numero per lo sportello corretto. Al primo sportello ci sono i servizi di spedizione. Ricordate di compilare i moduli in anticipo in stampatello, indicando il mettente, il destinatario e il suo indirizzo. Il contenuto del pacco o della raccomandata e alcune informazioni per la dogana. Al secondo sportello potete ritirare il kit per il permesso di soggiorno. e chiedere informazioni sulla procedura, sulla corretta compilazione della domanda e sui documenti che servono. Al terzo sportello ci sono i servizi finanziari, dove è possibile aprire un conto, fare versamenti, bonifici o postagiro, depositare i soldi sul proprio conto, effettuare monogram o vaglia, ma anche cambiare la valuta, per esempio da euro a dollari, a rubie o a renminbi, chiedere il saldo o l'estratto conto. Al quarto sportello ci sono i servizi di telefonia e internet, dove potrete acquistare una scheda telefonica con diversi gestori. Cambiare il piano tariffario e sceglierne uno più conveniente. richiedere l'installazione della linea internet a casa e del modem e ricaricare il credito del cellulare. Al sesto sportello è possibile acquistare scatole e confezioni di diversa grandezza, per le spedizioni, cartoline e francobolli, oppure inviare fax e telegrammi. a 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